Buonasera, buonasera da Onda Tg in apertura subito la cronaca, torniamo a parlare dell'aggressione a colpi di chiave inglese fra due donne, la polizia individua la responsabile e anche il movente, quindi le indagini praticamente sono a una svolta. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Un prezzo non onorato sarebbe il movente dell'aggressione a colpi di chiave inglese perpetrata nelle scorse settimane da una donna già individuata dalla polizia ai danni della proprietaria di un atto lavaggio che opera sul territorio comunale di Sulbona. Le indagini condotte dalla squadra anticrimine del commissariato di Via Sallustio, coordinata dall'ispettore superiore Daniele Rario, avrebbero subito una svolta nelle ultime ore. Gli accertamenti degli inquirenti avrebbero portato non solo a risalire all'identità della donna che rischia un'accusa per lesioni gravissime, ma anche a scoprire il movente che sarebbe legato al denaro. L'autrice della brutale aggressione, accecata dalla rabbia, avrebbe quindi perso la testa presentandosi nell'autolavaggio gestito da un'altra donna di nazionalità straniera dove sarebbe scoppiata una forte lite sfociata nell'aggressione a colpi di chiave inglese. Una scena da far west. La donna è scappata mentre la vittima è rimasta a terra ancora insanguinata fino all'arrivo dell'ambulanza del 118. In ospedale la donna è stata medicata e poi rilasciata con un referto di 50 giorni di prognosi. Gli inquirenti quindi stanno procedendo a formalizzare l'accusa mentre non vi è ancora traccia della chiave inglese, l'arma che la donna violenta ha utilizzato per l'aggressione. E ora la cronaca ci porta a Civitella Alfedena, un cuoco pasticcere morì per malore. Nell'agosto 2017 la procura della Repubblica di Sulmona ora indaga per omicidio colposo. Indaga la procura della Repubblica di Sulmona sulla morte di uno chef, Marco Polidori, in un albergo di Civitella Alfedena. L'episodio risale a fine agosto del 2017 ma solo in questi giorni è stata chiusa l'inchiesta per omicidio colposo con due persone iscritte nel registro degli indagati. Il proprietario dell'albergo è il medico del 118 che lo scorso 23 agosto si è recato sul posto per soccorrere l'uomo. Tutto è cominciato da quella giornata maledetta quando il cuoco pasticcere avvertito un malore e sul posto si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza. L'uomo è stato identificato come ospire dell'hotel e non come dipendente visto che non era regolarmente registrato poiché era stato assunto senza regolare contratto. I sanitari prestano le cure del caso ma dopo tre giorni in seguito a un nuovo malore subentra il decesso. Anche nei rilievi dei carabinieri l'uomo risulta come ospire della struttura alberghiera ma di lì a poco si viene a capo del lavoro nero che non ha permesso al 51enne, cuoco pasticcere, di godere dei permessi e dei giorni di riposo che spettano al lavoratore dipendente in caso di regolare assunzione. L'inchiesta della procura segue proprio questo filone. A proprietario dell'albergo viene contestata la mancanza di un normale contratto che avrebbe consentito al 51enne di ricorrere alla malattia. Secondo la procura le sue condizioni lavorative non avrebbero agevolato una rapida ripresa del cuoco che poi a distanza di qualche giorno è deceduto. Al medico del 118 viene invece contestata l'imprudenza di aver disposto un esame più approfondito lasciando però l'uomo nell'albergo e facendo rientro in sede con l'ambulanza vuota. Non semplice ma allora quindi l'inchiesta si è allargata abbracciando anche il filone del lavoro nero che resta una piaga sociale. Prodotti rubati dal caseificio. La polizia amplia il raggio delle indagini. Allora sentiamo tutto nel nostro servizio. Si allarga il cerchio delle indagini condotte dalla squadra anticrimine del commissariato di Sulmona sui prodotti non marchiati rubati da un caseificio cittadino e poi rivenduti sul mercato. L'autore come ha spiegato un datigì che ieri sera ha lanciato in anteprima la notizia è stato già individuato e denunciato l'autorità giudiziaria per furto aggravato e continuato ma la polizia sta cercando di risalire anche a quelle attività che hanno acquistato i prodotti senza marchio rubati dal giovane sulmonese prima di essere messi in vendita nel caseificio e rivenduti agli acquirenti che potrebbero essere titolari a loro volta di diverse attività commerciali. Al momento nemmeno gli inquirenti sarebbero in grado di quantificarle. Potrebbero essere 5 o 6 ma si tratta solo di dati non attendibili. Gli uomini dell'anticrimine vogliono comunque accertare se i prodotti rubati e poi acquistati sul mercato sono privi o meno di tracciabilità. Il trentenne autore del furto, MV, è stato licenziato dall'azienda visto che nel bilancio si è verificato un ammanco di circa 15.000 euro. Il titolare del caseificio ha installato su consiglio della polizia le telecamere per risalire responsabile della serie di furti che sarebbero stati perpetrati nell'arco di alcuni mesi fino alla visione dei filmati che hanno incastrato il giovane denunciato. Ma le indagini vanno avanti e seguono il filone della tracciabilità dei prodotti. La discarica di bussi domani attesa la sentenza in Cassazione che arriva a 11 anni dalla grande scoperta. A distanza di 11 anni esatti dalla scoperta della mega discarica di rifiuti tossici rivenuta dal Corpo Forestale dello Stato nel marzo 2007 a bussi sul Terino, la vicenda sulla bomba ecologica più grande d'Europa proda in Cassazione. Domani i giudici di Piazza Cavour dovranno pronunciarsi sulla sentenza emessa il 17 febbraio 2017 dalla Corte di Assise d'Appello dell'Aquila. Una decisione è quella dei giudici aquilani che ha ribaltato la sentenza emessa in primo grado dalla Corte di Assise di Chieti il 19 dicembre 2014. Nello specifico i giudici avevano assolto i 19 imputati, ex dirigenti e tecnici legati a Montedison, dall'accusa di avvelenamento doloso di acque per ritenuta insussistenza del fatto, mentre avevano dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per il reato di disastro ambientale derubricato da doloso e incolposo. Le indagini della Procura della Repubblica di Pescara sulla mega discarica dei veleni prese il via nel 2007 con la scoperta da parte del Corpo Forestale dello Stato di circa 185 mila metri cubi di sostanze tossiche e pericolose in un'area di 4 ettari nei pressi del polo chimico di Bussi sul Tirino. Per decenni sarebbero state sversate e smaltite abusivamente a tonnellate di sostanze pericolose, tra cui cloroformio, tetracloruro di carbonio e metalli pesanti, veleni che avrebbero contaminato anche le falde da cui per anni è stata prelevata l'acqua distribuita nella rete idrica dell'intera vallata. Toccherà ora ai giudici della Suprema Corte scrivere l'ultimo capitolo sul tuortuoso procedimento giudiziario riguardante la discarica di Bussi che, secondo la relazione dell'Istituto Superiore di Sanità, datata 30 gennaio 2014, ha messo a rischio la salute di 700 mila abruzzesi. E proprio la discarica di Bussi sarà oggetto del prossimo convegno di criminologia Barbara delle Monche. I veleni di Bussi e della Terra dei Fuochi accompagneranno il tema del caporalato nel VII Seminario Nazionale di Criminologia, Ecomafia e Agromafia, Analisi, Riflessioni e Proposte e Cineforum, in programma per il 9 novembre 2018 presso il Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, ed organizzato dall'Associazione Vittime del Dovere in collaborazione con la Villa Abruzzo. Il seminario sarà preceduto il giorno prima presso la Sala Polivalente del Liceo Scientifico Fermi, a partire dalle 16, da un interessantissimo cineforum con la proiezione del docufilm The London Fires, al quale seguirà il dibattito con interessantissimi ospiti. Per i veleni di Bussi si cercherà di affrontare l'argomento, esaminando la rivoluzionaria sentenza della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila del febbraio 2017, che ribaltando la sentenza di primo grado e affermando il mancato decorso della prescrizione, ha riconosciuto l'effettivo avvelenamento delle acque di falda, ad opera del sito industriale e delle discariche dello stabilimento Montelli-Sondibussi sul Tirino. Si analizzerà e si approfondirà anche per il caso della Terra dei Fuochi, una vasta area situata in Italia meridionale, che si estende in campagna, a cavallo tra la provincia di Napoli e quella di Caserta, interessata dall'interessamento dei rifiuti tossici. Anche quest'anno è viva l'aspettativa per il seminario di criminologia, ha spiegato Mauro Nardella, segretario confederale UIL-CST, voluto in un territorio dove è presente uno degli istituti di pena tra i più importanti d'Europa. Per l'evento, come sempre, a concluso, sono previsti crediti formativi per avvocati, giornalisti, psicologi e assistenti sociali. A patrocinare il seminario, le tre università abruzzesi e quella di Urbino. Ora le scuole, a rischio l'avvio del servizio Mensa, CGL, è pronta ad azioni eclatanti, ma torna alla carica anche il comitato. Facciamo il punto nel nostro servizio. E a rischio il regolare avvio del servizio di riflessione scolastica per il prossimo 1 ottobre, e la Filcams, CGL della provincia dell'Aquila, minaccia azioni eclatanti, se non si troverà una soluzione a stretto giro. Il segretario provinciale Luigi Antonetti, assieme ad altre sigle sindacali, ha inviato una nota agli amministratori di Palazzo San Francesco, dove si chiede un incontro urgente per la risoluzione della problematica, onde evitare venir meno di un servizio di fondamentale importanza per le famiglie. I refettori non sarebbero tutti a norma, tant'è che è stata chiesta una relazione. Noi chiediamo immediatamente un incontro, altrimenti si rischia il ricorso a proteste eclatanti direttamente in comune, avverte il sindacalista Antonetti. La questione, legata allo sproporzionamento dei pasti dei rispettivi locali, è riesplosa assieme all'uso delle palestre scolastiche, anch'esso congelato, in attesa di una relazione che dovrà arrivare da Palazzo San Francesco, richiesta alle dirigenti scolastici. Una situazione che ha riportato in auce tutte le polemiche con il Comitato Scuole Sicure che torna alla carica. Il sacrificio richiesto ai bambini, a personale scolastico e genitori può essere fatto e deve essere fatto per un periodo limitato, in contemporanea con lo svolgimento dei lavori necessari a mettere in sicurezza e adeguare gli edifici scolastici o mentre si costruisce una nuova struttura, attuonano dal Comitato senza usare mezzi termini, spiegando quindi che sacrificarsi per anni senza vedere un solo lavoro partire per noi genitori e insegnanti è avvilente ma per gli amministratori e dirigenti deve essere fonte di vergogna. Chi non sa più cosa fare, come fare, dove mettere le mani si faccia da parte, abbia il coraggio e la coscienza di dire ho fallito e corre ai ripari. Le scuole quindi almeno riguardo mense e palestre tornano in emergenza. E ora il lavoro, modifiche al contratto ad alta tensione, nuovo scontro alla Magneti Marelli. Anche stavolta i lavoratori non verranno interpellati dal momento che le piattaforme verranno sottoposte unicamente al voto delle RSA firmatarie. E quanto lamenta la fiume CGL della provincia dell'Aquila per l'approvazione del contratto collettivo specifico allo stabilimento sistemi sospensioni di Sulmona. Se il futuro della Marelli comincia ad apparire più chiaro dopo l'accorpamento tra la sistemi sospensioni e gli ammortizzatori, non da tutti guardato con buon occhio, riesplodono le polemiche sul contratto e si torna allo scontro. Inutile dire che non sono presenti in tali piattaforme proposte di modifica del contratto per quanto riguarda l'aspetto dei carichi di lavoro e la relative adozione dell'ergo UAS e per quello che riguarda la contrattazione sulle turnazioni. Ma la cosa che più di tutte dovrebbe scandalizzare è che, come accadde otto anni fa per l'approvazione del primo contratto collettivo, anche stavolta i lavoratori non verranno interpellati. Infatti il dato più scandaloso che emerge è che le piattaforme verranno sottoposte unicamente al voto delle RSA firmatari e tuonano dal sindacato. Ci spiace dover assumere regolarmente il ruolo dei Cassandra della situazione, ma ancora una volta ci tocca dire noi ve l'avevamo detto, proseguono dalla FIOM che avverte. Ora l'approvazione di un ennesimo contratto capestro dipende dal voto di pochi rappresentanti, i quali in futuro non potranno più nascondersi dietro la banale scusa che sono i nazionali a firmare il contratto. I toni quindi all'amarelli restano accesi perché oltre al futuro dell'azienda c'è anche l'avvertenza sindacale che torna a dividere e a creare fibrillazione. Una giornata nera per il giornalismo aquilano, ma anche per noi è morto Peppe Vespa, era stato direttore responsabile della sede aquilana di Onda TV, il nostro ricordo nel servizio di Domenico Berlingeio. È morto all'età di 82 anni il giornalista aquilano Peppe Vespa. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Salvatore dopo una malattia che lo aveva colpito da diverso tempo. Vespa, direttore dell'attestata indipendente l'editoriale, negli anni si era caratterizzato sempre per la sua penna pungente e per le temutissime copertine con vignette satiriche e fotografie dei potenti a testa in giù. È stato inoltre dal 1996 per oltre un decennio direttore responsabile della nostra emittente Onda TV di Sulmona, con sede anche nel capologo di regione. Oltre che per l'attività giornalistica Peppe Vespa si era fatto apprezzare nella locale Accademia di Belle Arti come valido artista e scultore raffinato. Lascia la moglie Marisa e i figli Onorino e Carla. Esprime cordoglio per la sua scomparsa il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che definisce il Peppe Vespa giornalista corrosivo, graffiante e talvolta anche eccessivo. Una persona, prosegue Biondi, che suscitava sentimenti contrastanti, grandi amicizie ma anche accese ostilità, frutto del suo lavoro mai banale in cui non faceva sconti a nessuno neanche a chi lo conosceva e lo frequentava. Aveva fatto del suo quotidiano, prima nella versione cartacea poi digitale, un punto di riferimento per chi volesse conoscere fatti ed eventi, chi altrimenti non sarebbero mai venuti alla luce sul modello del giornalismo d'inchiesta. Il tutto sempre condito da ironia e sagacia, frutto di quella vena artistica che ha sempre accompagnato la sua esistenza sin da giovane. L'Onorevole Stefania Pezzopane si unisce al cordoglio e racconta che dopo averlo incontrato l'ultima volta era visibilmente ferito dal suo male. Mi è dispiaciuto saperlo sofferente, afferma, e vederlo così consumato, lui che esprimeva sempre tanta energia. A volte Peppe era persino scioccante nelle sue ricostruzioni delle vicende aquilane. Conservo da qualche parte qualche sua aspra copertina, le vignette a testa in giù. Visitando il suo museo, per il quale tanto si era prorigato, e dove si svolgono attività per ragazzi ed artisti, ho recentemente visto le sue inedite opere e sono rimasta colpita perché era un artista vero, libero e originale. I funerali, per dare l'ultimo saluto a Peppe Vespa, si svolgeranno domani alle 15.30 nella Basilica di San Bernardino. Entro d'acqua la Prefettura dell'Aquila sospende il Consiglio Comunale, prima visita in incognito del commissario prefettizio. Primo giorno in comune per il commissario prefettizio Maria Cristina Di Stefano, viceprefetto dell'Aquila, che ha ricevuto l'incarico di traghettare il comune d'intro d'acqua fino a nuove elezioni, salvo nuova nomina del capo dello Stato che dovrà scegliere il commissario straordinario. L'insediamento ufficiale è atteso in queste ore, ma già ieri la Di Stefano è stata ricevuta in municipio da segretario comunale per una prima visita alla struttura in incognito e per ricevere le consegne. Maria Cristina Di Stefano dirige attualmente l'area 1 dell'Ordine della Sicurezza Pubblica della Prefettura dell'Aquila e già ricoperto l'incarico di commissario prefettizio in altre municipalità del centro Abruzzo. La Prefettura dell'Aquila, a seguito delle dimissioni del sindaco Terenzio Dicenzo, diventate irrevocabili tra scorsi i 20 giorni previsti dalla legge, ha provenuto ad emettere il decreto di sospensione del Consiglio Comunale, nominandola Di Stefano commissario prefettizio. Sindaco, consiglieri e assessori restano tali ma sospesi dall'esercizio delle loro funzioni e quindi di fatto non più in carica. Lo sceglimento del Consiglio Comunale sarà poi sancito dal decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dovrà nominare un commissario straordinario fino a nuove elezioni. Solitamente questa figura coincide con quella del commissario prefettizio, ma Mattarella potrebbe scegliere anche un altro nome. Gli amministratori uscenti scaldano intanto i motori nel caso in cui il commissario deciderà di avviare una sorta l'interlocuzione con i gruppi consigliari sospesi, soprattutto in relazione a piano di rientro pluriennale per colmare il disavanzo di amministrazione, pari a 618 mila euro che ha spinto l'ex sindaco di Censo a gettare la spugna. Intanto il Paese si comincia ad abituare alla figura del commissario, questo sconosciuto, anche ai più veterani. Ci spostiamo a Raiano, la best practice delle aree interne, studenti a confronto con esperti e con il sottosegretario Vacca. Vediamo tutto nel nostro servizio. È un gioiello Raiano, è una best practice potremmo dire delle aree interne. Lo slogan lanciato dalla consigliera regionale pentastellata Sara Marcozze e da sottosegretario Ebbeni e le attività culturali Gianluca Vacca ha messo tutti d'accordo questo pomeriggio nel centro della Valle Pelinia per i workshop europeo organizzato in collaborazione tra l'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, l'Università Autonoma di Barcellona e l'Università di Lisbona sui temi della conservazione e della gestione dei paesaggi protetti nei contesti del Mediterraneo. Una decina agli studenti che si sono confrontati sulle forme innovative di gestione che vadano oltre il tradizionale approccio regolativo e vincolistico dei piani di tutela delle aree protette. Raiano quindi è diventato oggetto di studio per una nuova governance delle aree interne con una serie di esperti che sono arrivati da ogni dove. L'ennesima occasione per ricordare che il nostro territorio è un territorio straordinario ricco di bellezze artistiche, naturalistiche, paesaggistiche eccezionali e che però purtroppo non sono state sempre tutelate e valorizzate a dovere. Eppure queste nostre ricchezze potrebbero creare economia, potrebbero creare benessere, potrebbero creare sviluppo per il territorio. L'impegno del governo ovviamente è quello di fare in modo che ci sia un dialogo con le istituzioni e di supportare tutte le iniziative che provengono dai territori. Così esordito il sottosegretario Vacca, sfalleggiato dalla consigliera Marcozzi, che già si è candidata a guidare la regione Abruzzo, a fare l'onore di casa il sindaco Marco Moca. Veramente ci riteniamo molto soddisfatti che avvenga ciò. Del resto la realizzazione attraverso i fondi parfase e parfersi delle nostre strutture, del centro di studi, erano proprio inerenti a questi progetti. Indicano la strada a cui questa regione e a cui questo territorio deve dare credito, che è quella di focalizzare delle interconnessioni funzionali tra il sapere e la gestione in una visione di multidisciplinarità che ne consentirà di uscire fuori dalle secche e identificare quello che sarà il vero e proprio processo di sviluppo intorno al quale formare le scelte di governo del territorio nel prossimo futuro. Intanto l'Europa, sempre più vicina, avanza sul Mona, grazie allo sportello Europe Direct Maiella, che entra nel vivo, sentiamo meglio nel nostro servizio. È stata più universale e originale del solito la giornata europea delle lingue, celebrata ieri anche a Sul Mona grazie allo sportello di Europe Direct Maiella. Il video con l'agurio in tutte le lingue sta facendo impazzire social e già segna il successo di un'iniziativa che comincia a prendere piede. Il Centro Europe Direct Maiella, in occasione della giornata europea delle lingue, ha deciso di chiedere a tutti i sedenti di inviare un breve videoclip per festeggiare insieme questa fantastica giornata. Ci sono arrivati diversi video da tutta Europa. Vediamo lì! Il Centro Europe Direct Maiella è un buon giorno europeo di lingue. Vediamo! Il Centro Europe Direct Maiella è un buon giorno europeo di lingue. Ciao! Alla fine, alla fine per la giornata europea della sprazione. Grazie a tutti ieri un buon giorno europeo di lingue. Il Centro Europe Direct Maiella è un buon giorno di lingue. Il centro Europe Direct Majella ora tutti vogliono buona giornata europea di lingua Europe Direct Majella Veselisim prieteli Europos Sloglato Dien Sveiki Sveiki Europe Direct Majella centras sveikina jūsų Europos Sloglų Diena ir linki geros dienos Linkiejimai iš Lietuvos Drago Centro Europe Direct Majella Dėvo iš Lietuvos, da vėgaučastyti a evropskui odden naia zitiite. Čau! Ir jūsų Europos Sloglato Diena van detalen van het centrum Europe Direct Majella Sveiki jūsų Europos Sloglato Diena Europos Sloglato Diena Sveiki Europe Direct Majella Buna ziua In direct de la Centrum Majella Asta stent vizio a european al dienvii vă urează o zi cuna Europe Direct Majella Il Centro Europeo Direct Maiella è un servizio di informazione della Commissione Europea sulle attività e sulle opportunità fornite ai cittadini dell'Europa, promosso e ospitato dal Parco Nazionale della Maiella, gestito dall'Associazione Line, è rivolto a tutti gli utenti, alle imprese, alle cooperative sociali, agli enti pubblici, alle scuole, al mondo del volontariato, della ricerca, ai professionisti, ai centri di informazione, alle associazioni di categoria, agli agricoltori, ai giovani. Il fa parte della rete dei centri informativi promossi e sostenuti dalla Direzione Generale, Comunicazione e Commissione Europea, coordinati dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, una rete che conta circa 46 centri in Italia e oltre 450 in tutta Europa. Sulmona rientra nel circuito virtuoso con l'Europa che è sempre più vicina. Ed ora l'atteso momento della buona notizia del giorno. Arrivano 300.000 euro per tutte le famiglie in difficoltà. La costituenda ATS, composta dal Comune di Sulmone in qualità di ECAD nell'ambito sociale distrettuale numero 4 Peligno, nonché capofila, dal Comune di Casteldisangro in qualità di ECAD nell'ambito distrettuale numero 6 Sangrino e da Sindab SRL, ha ottenuto il finanziamento di 318.536 euro nell'ambito dell'avviso pubblico regionale Abruzzo Care Family. Lo rende noto l'assessore alle politiche sociali a Narita di Loreto. Si tratta delle risorse del programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e del Piano Operativo 2017-2019. Il progetto prevede due linee di intervento rivolte a nuclei familiari multiproblematici che potranno ottenere, a seguire o di apposito avviso gradatoria, voucher di servizio con un valore massimo di 480 euro da spendere per servizi, quali ad esempio i servizi di supporto psico-socio-educativo da parte di personale qualificato, i servizi di assistenza domiciliare integrata, lati, di tipo sociale, in termini di ore, sono escluse le attività di tipo sanitario, i centri di urni, i centri di accoglienza e similiari, i servizi di assistenza scolastica per studenti con disabilità, le rette, i servizi a pagamento per attività extrascolastiche dopo scuola, i centri ludico-ricreativi, i centri estivi. Su entrambi gli ambiti sociali e distrettuali verranno erogati complessivamente, come d'avviso regionale, 200.000 euro in voucher, che potranno essere spesi presso soggetti erogatori per i quali sarà predisposto dagli ECAD partner del progetto, apposito catalogo a seguire o di avviso. Saranno inoltre attivi i percorsi formativi rivolti ai familiari. La finalità dell'attività formativa, conclude l'assessore Annarita Di Loreto, è sia la valorizzazione delle competenze di assistente familiare, sia il collegamento di queste figure nel mercato del lavoro. E ora allo sport, il calcio, Lovidiana Sulmona, dopo l'avvio difficile, Spina incoraggia i suoi. Domenico Berlingeri. Gli episodi non ci stanno girando bene, non è una scusante. Dobbiamo prenderne coscienza e iniziare a capire che ogni occasione è quella fondamentale. L'ho detto domenica, i rigori si fanno, si sbagliano. Purtroppo l'abbiamo pagato caro, perché poi subito dopo abbiamo commesso un errore, mentre stavamo ancora a pensare al rigore sbagliato, abbiamo preso questa imbarcata. Questo è quanto affermato dal tecnico dell'Ovidiana Sulmona, Joachim Spina, che dopo la sconfitta casalinga contro i riverchieti è costretto a rilevare ancora la mancanza di cattiveria sotto porta. Oltre ai rigori falliti nelle ultime due partite, la squadra non riesce a trovare la via del gol. Nel primo tempo forse eravamo un po' troppo molli, non ho visto quella cattiveria che bisogna metterci per queste partite, per questo campionato, mentre nel secondo tempo abbiamo reagito, siamo entrati bene e abbiamo fatto bene. Un buon secondo tempo, con diverse occasioni, arriviamo alla fine, arriviamo là davanti, però non riusciamo ancora a concludere bene le azioni. Ora bisogna iniziare ad essere un po' più cinici, concedere poco e cercare di realizzare quelle poche occasioni che creiamo, perché comunque crei tre, quattro occasioni, devi riuscire, per non dire i rigori, però anche nelle occasioni, tre, quattro occasioni che crei, devi essere un pochettino più concreto. Quello è quello che è un po' successo in queste due giornate, se non forse anche tre, perché anche quella in vasto in casa potevamo andare sul 2-0 e potevamo portare a casa dei punti in più. Quattro partite, zero vittorie, due pareggi e due sconfitte. E questo è il bilancio dell'Ovidiana Sulmona, che deve ancora trovare la giusta dimensione. Per il tecnico Spina, le prossime quattro gare contro Villa 2015, Sant'Anna, Bucchianico e Cassolana, serviranno per capire il reale valore della squadra. Sapevamo che le prime quattro erano partite difficili, e ora abbiamo quattro partite, sempre altrettanto difficili, ma dove andremo poi a scoprire che squadra siamo, quello che possiamo ottenere e a che punto. Speriamo solo di non arrivare tra quattro giornate a dire abbiamo fatto bene ma abbiamo raccolto poco. Iniziamo a raccogliere un po' di più, magari giocando male, se ci gira bene qualche volta dobbiamo essere più bravi, cerchiamo di raccogliere quei punti che ci mancano. Vi ricordo dopo di noi, Abruzzo Notizie è il punto, alle 21 l'appuntamento del giovedì con Onda Strike, e bene davvero tutto per questa edizione, Onda Reggi torna domani, grazie per essere rimasti con noi, a tutti e una buona serata. Grazie a tutti i nostri spettatori,